Un appello per la pace a Gaza arriva dalla Caritas di Gerusalemme e dagli operatori presenti nella striscia aggiungono notizie preoccupanti. La festa della dedicazione della Basilica del Santo Sepolcro e la presenza dei pellegrini in Terra Santa anche in questi giorni di conflitto. Siamo andati a cena nella casa di una famiglia musulmana di Betlemme alla scoperta delle tradizioni e del significato profondo del mese di Ramadan. Un progetto di danza con bambini e ragazzi di Betlemme, l'obiettivo promuovere l'amicizia tra i popoli. Grazie. 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 Grazie.